Buongiorno, io sono Fabrizio Ponzo, il direttore tecnico di IVIS Italia e benvenuti al nostro roadshow che si tiene qui a Roma, negli studios di Cinecittà. Quello che vi mostro oggi è il nuovo sistema a retroproiezione di IVIS basato sui nuovissimi moduli a retroproiezione di LP LED chiamati Slim Cube in quanto garantiscono una profondità posteriore di appena 42 cm rispetto ai moduli convenzionali che altresì sono molto più profondi. Diagonale da 50 pollici, risoluzione Full HD, come ho detto retroilluminazione LED il che ci garantisce dei colori vividi e brillanti e dei valori di MTBF molto elevati, superiore alle 60.000 ore in condizioni di operatività standard. Le ulteriori diagonali disponibili attualmente sono da 50, 60 e 70 pollici, tutte in risoluzione Full HD. Il vantaggio di questi display è quello che oltre di avere una profondità di appena 42 cm, la possibilità di poter essere installati completamente adiacenti alla parete posteriore, possono essere anche appesi direttamente alla parete come un classico display LCD anche se basato su tecnologia retroproiezione. Questo ci permette di adagiare il sistema completamente alla parete posteriore. La manutenzione può essere garantita sia dal frontale che dal posteriore. Gli schermi sono installati su dei magneti e quindi permettono tramite le ventose di essere rimosse dall'anteriore e di accedere all'unità di proiezione. Unità di proiezione che è dotata di slit è otto swap, quindi può essere facilmente estratta dal modulo, sostituita con una nuova e così l'operatività viene ripristinata in pochissimi minuti. Qui mostriamo il nostro tavolo multi-touch da 110 pollici, chiamato T3, multi-touch table. È un sistema composto da 4 display con diagonali da 55 pollici con risoluzione Full HD, per ottenere una superficie globale in risoluzione 4K. Il sistema è composto da un overlay touch di un dato di 40 tocchi simultanei, in questo caso è abbinato ad un software di un nostro partner dedicato ad una gestione di videosorveglianza, dove abbiamo una planimetria che mostra il design di una casa e abbiamo degli oggetti touch con cui possiamo controllare e connettere differenti sistemi, tipo un sistema di videosorveglianza, oppure tramite i moduli iVis, iGate, possiamo acquisire il contenuto di un PC con connettività HDMI e visualizzarlo sul tavolo in estrema libertà. Questo tavolo può essere configurato in differenti modalità, quindi non solo con 4 display, ma lo possiamo customizzare in base alle esigenze del singolo cliente, quindi creare più differenti formi, non solo con 2 display, con 6 display e così via, quindi anche con differenti risoluzioni. Campi di applicazioni come dicevo i più svariati, quindi ambito retail, moda, negozi, sono sicuramente quelli supportati. Un'altra possibile applicazione potrebbe essere quella di cataloghi digitali oppure studi di architettura, comunque dove più persone devono condividere e collaborare su degli oggetti grafici in movimento. Qui presentiamo un sistema OmniShape, OmniShape sta per qualsiasi forma schermo e come vedete abbiamo differenti tipologie di schermo, è un prodotto innovativo e creativo per applicazioni di signage o comunque dove è necessario inventarsi delle forme schermo differenti, esagoni, pentagoni, rettangoli o altri tipi di forme personalizzate che possiamo fare ad hoc per le vostre applicazioni. È un sistema a retroproiezione DLP, ogni modulo è circa 24 pollici diagonale, risoluzione 1024x768 pixel. Il sistema si basa su una connettività DVI, desi-chain, quindi ogni modulo può essere pilotato dal proprio segnale DVI oppure linkati a gruppi per gestire risoluzioni full HD o superiori sull'intera superficie di visualizzazione. IVIS entra nel mondo dei sistemi LED, LED wall, con passo pixel molto definito, qui abbiamo un 2.5 mm, di là un 2.0 mm, montati su delle strutture particolari che permettono una veloce installazione e una facile manutenzione. Accesso manutentivo dal posteriore oppure dall'anteriore, tecnologia IVIS per la parte elettronica, connettività DVI, abbiamo dei sistemi ad elevata luminosità, 1500 candele metro quadro per applicazioni indoor ad alto impatto. Anche per questo prodotto possiamo costruire tile di differente formato e dimensione per rispondere alle più particolari esigenze progettuali o architetturali. Disponibile già da subito anche la versione 1.5 mm per applicazioni con definizione molto elevata, anche per sale di comando e controllo. Manutenzione può essere eseguita dal frontale tramite la rimozione delle singole sub-tiles per una manutenzione veloce ed efficace.